c'è giù che è giù non ci sia giù non è giù ma non è giù 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 in questo modo un po' un po' che è giù un po' Attenti mi ascolta mia cosa, io sono una persona sincera Il furbo a sale, addio Il furbo a sale Però non dalle miei 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 Eeeh non ho capito, se si sente rubato Ma un caldettino che la fottura è che se devo fare 10 con 6 E a questo si sente rubato Io capisco che c'è una sorta di verità di volo e di rubato E' la parte che chi ha il tradizio e todo E' una espressa anche di miei Ma su me ce l'ha da capire un po' tutti La casa di Greci e Tivistro da qua è super palese Non sono parte di numericilanzi che appartinociati a 5 anni Ma non me ne sono mai fatti sigurati E' un po' di anni perchè siamo tutti ragazzi insieme Ragazzi per bere, ragazzi in gamba forse questo è il punto storico Caterina, questo è un rispetto e la amicizia funziona ma comunque prenderà le mie persone e uno ti vedi? io l'ho capito lascia fare a noi tu fai quello che devi fare cioè mandare via i tuoi paetani non riesce a capire i doveri sul lavoro un po' a più ma è un problema è un problema diceordine un po' a più ma è un problema non riesce d'essere si uscite per arrivare qualcosa che ho guidato le tessere un uguerla ok? noi stiamo contestando la campagna di acquisto fagli sapere però che sono guidato le tessere andiamo avanti wow, bisogna fare sempre così c'è una società che vuole prego agli sgraziati e non so che facciamo? e non so ma anche io ma non hai capito che a me non me ne frego io voglio arrivare a congitto io voglio 40 minuti io voglio arrivare a congitto